Un bel ritorno qui in Ratti Auto, finalmente di nuovo disponibile Nissan Juke, vediamola subito. Questo è il taglio laterale del SUV, bellissimi cerchi in lega, molto bello l'interno passeggeri con questi sedili in tessuto misto. Nel retro abbiamo anche questo vano portoggetti, molto bello, ce ne sono diversi di vani portoggetti come vedete. È presente l'apertura Keyless, saliamo a bordo e guardiamo l'infotainment, attiviamo il tutto con lo start and stop, poi vediamo se accende l'infotainment, diversi i tasti per regolare e gestire l'infotainment oltre allo schermo touch e vediamo insieme che ha il clima automatico regolabile tramite le manopoline, la retrocamera con i sensori di parcheggio, i comandi al volante non mancano e gli specchietti sono elettrici e richiedibili, ciao! Parliamo di Nissan Juke, 1.16 cilindrata, 113 cavalli, con motore benzina, come dicevo prima, i cerchi in lega, il navigatore satellitare, la retrocamera, il bluetooth, l'ABS, insomma, è veramente un SUV perfetto per chiunque. Se tu sia un padre di famiglia, una businesswoman o semplicemente un lavoratore dipendente, questa è l'occasione che fa per te. Scopri subito l'offerta su rattiauto.com, link in descrizione. A presto Ratti Lovers, vi vediamo qui in showroom, ciao!